Ciao a tutti sono Ivots e benvenuti in questo nuovo video su Clash Royale Oggi come da titolo andremo a fare un nuovo spacchettamento Un spacchettamento un po' speciale perché ieri abbiamo appunto completato il baule del clan Siamo arrivati al baule 10 su 10 L'abbiamo completato veramente in pochissimo tempo, in almeno 24 ore E come vedete all'interno ci saranno 1620 monete e 270 carte In cui spero ci sarà almeno una leggendaria Cioè almeno mi basta anche solo una leggendaria, niente monete, no 269 carte Una fottutissima leggendaria, mi va più che bene Come vedete appunto i partecipanti sono stati questi qui Come vedete Dart che è addirittura sceso di Arena per fare addirittura più corone Quindi veramente grazie mille Poi c'è Zeus, MainaGioia, Luca68, IkemanItalia, 89 Confirmed, Mantix, Nicola Paolo22, Davide, Andrea Viventino, Giuseppe109 Insomma tutti gli altri che hanno partecipato li ringrazio veramente tanto Come vedete io sono abbastanza schifoso, ne ho fatte solo 27 Perché ultimamente non sono più capace di giocare Cioè continuo a perdere, tutto quello che faccio perdo Perdo continuamente e faccio una massimo corona Quindi in 27 partite 27 corone, perfetto Però come vedete ci sono stati anche persone Ad esempio è Filo36 che però non l'ho cacciato In quanto gli sarebbero tolto il tablet Comunque ha avuto dei problemi e quindi non ha potuto partecipare Però ci sono stati anche moltissimi altri, circa una decina Che non hanno fatto praticamente un cazzo E quindi queste 10 persone sono state sbattute fuori Perché come è giusto Chi si impegna rimane Chi non si impegna non fa niente Proprio zero, nemmeno una, due, no, zero Sono state buttate fuori Come vedete comunque il mio clan è appunto Ivos Clans Se volete unire, se ci sarà posto Perché come vedete siamo in 50 quindi tutto pieno Potete unirvi tranquillamente Magari se mi iscrivete sulla pagina Facebook Se vedo che c'è qualcuno di non attivo Comunque che ha magari zero tornazioni O comunque ha i trofei bassi A parte Mantix che appunto è un'eccezione Perché lei può Vi appunto magari butterò fuori questa persona non attiva Per far entrare voi Magari che appunto siete magari anche un mio fan E quindi avremo poi un contatto più diretto Ma comunque sono qui appunto Che fremo dalla voglia di aprire questo baule del clan E quindi facciamo 3, 2, 1, bam Allora Appunto 1620 monete Ci stanno no? Poteva darmela anche di più però Amen 3 torre bombardiera Che ormai non uso più Quindi non me ne frega abbastanza niente 3 valchiri Che anche questo non mi interessano 6 torre infernali Che anche questo non mi interessano Poi andiamo con 15 capanna dei barbari Che pure queste non mi servono a niente Benissimo 239 tesla che non ho mai usato nella vita e mai userò 3 guardie E potrebbe esserci la leggendaria Io non ho mai capito sta storia del Se arrivi alla fine che c'è quella cosa Allora poi ti rimane una Allora sicuramente la leggendaria Però 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 potrebbe essere appunto la leggendaria Quindi io sono qui che sto sudando in una maniera impressionante Perché voglio che ci sia la leggendaria E se mi dovesse capitare una leggendaria spero che sia o la principessa e la scintilla Perché sono quelli che voglio Ma molto probabilmente mi uscirà il mastino lavico che fa abbastanza cagare Io mi topo gli occhi anche se voi non vedete che mi topo gli occhi E clicco E pregate per me lasciate un mi piace adesso per favore Per darmi incoraggiamento Perché se voi mettete mi piace io troverò la leggendaria L'avete messo Bravissimi Ok perfetto 3 Ma dove sta cagando addosso 3 2 1 Oh scintilla Perfetto cazzo La prima leggendaria No non è la prima perché c'è già altre due Però Sai che cazzo La scintilla Che la volevo L'ho detta Grazie a che gli ho messo di piaccia Che appunto ha dato Tutta la La potenza Di questo baule di merda Con carte di merda Per farmi trovare la scintilla Perfetto 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 Adesso c'è solo un problema E devo imparare ad usarla Quindi Come vedete a questo punto Le cose che ho trovato Merda 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 Anche se non la uso Stupenda Stupenda Guarda che bella Guarda guarda Sembra Un Gli anellini Cocopox Di Di miele Che c'erano una volta Vabbè insomma Stupenda Stupenda Perfetto Primo Spacchettamento che faccio su Clash Royale Trovo già la leggendaria Quindi Alla grande Proprio Alla grande Adesso sicuramente lo andrò a denunciare sul clan E inizio ragazzi Io spero che questo video vi sia piaciuto Non sono mai stato così euforico Per un gioco Da cellulare Che fa abbastanza cagare Perché alla fine È un gioco molto semplice Molto Ruba tempo E niente Comunque io sono Ivos Vi ricordo appunto Ivos Clans è il mio clan Che però è pieno Quindi Non potete entrare Però Se fate quello che vi ho detto prima Potete appunto entrare Basta scrivermi Sulla pagina facebook Quindi vi invito anche a mettere un mi piace Sulla pagina di facebook Questo è il mio deck Che sto utilizzando attualmente Che ha un costo di 3.6 E ci sta Anche se non è proprio perfetto E questo è il deck Che usavo prima Che ci sta Cioè È perfetto Però Perdo Quindi Non capisco Vabbè Comunque Sono Ivos Spero che vi sia stato No Spero che vi sia stato Lo veduto No perché non è un tutorial Spero insomma Che vi sia piaciuto Questo video E ci becchiamo Magari in un prossimo video Sempre su Clash Royale Oppure su qualche altro gioco Niente Ciao a tutti